eccoci qua eccoci qua eccoci qua con qualche piccolo incidente audio buongiorno buongiorno figliuoli buongiorno figliuoli come state come state benvenuti al multiplayer risponde il una cornucopia di saggezza e peli facciali solo per voi solo per voi siamo qui a rispondere alle vostre domande a tutti i vostri dubbi sui videogiochi sull'universo su tutto quanto come state come state spero bene noi stiamo medi quindi va bene siamo mediamente stiamo mediamente sì 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 siamo stati più freschi siamo stati sicuramente più freschi nella vita assolutamente sì cosa mi racconti ma quali fantastiche domande ci hanno fatto oggi i nostri utenti di cosa vuoi parlare non lo so vuoi parlarmi di quanto bella sia la giornata la giornata roma roma è una merda epocale proprio pure qua piove quindi in realtà bella proprio bella la giornata una porcheria vera molto molto bene speriamo che non piova anche domani che abbiamo la festa di multiplayer ragazzi per chi non lo sapesse domani siamo al why to rabbit di roma a fare la il party di multiplayer e lega nerd con un sacco di powering con un sacco di gente influenzata esatto di gente influenzata perché influencer no quindi niente siamo siamo lì domani a roma oggi invece siamo ancora a casa qua a grattarci le balle a rispondere alle vostre domande quindi quali quesiti ci sono nella fantastica news di multiplayer quest'oggi allora allora cominciamo subito cominciamo subito con un bellissimo il cla che ci chiede che ne pensate dei rumor riguardanti la collaborazione tra fran software e george a marine quale universo ci si aspetterebbe dinnanzi nella prossima produzione from e soprattutto pensate che ritornerà la componente online fa molto ridere il fatto perché io so se sono veri o falsi rumor però non posso dirlo benissimo quindi siamo fregati cioè io so se sono veri o falsi rumor però ovviamente non mi posso dire un cazzo quindi fatevi una vostra idea se questa risposta deve tendere al sì o al no esatto fatevi una vostra idea ma tanto sarà l'idea sbagliata in generale indipendentemente da tutto perché io negherò tutto fino alla tomba o finché perché perché la vita non è mai divisa solo tra sì e no 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 esatto la vita è divisa anche tra forse e anche soprattutto tra vaffanculo in generale ma comunque comunque no allora se le voci fossero vere parliamo ovviamente parliamo ovviamente senza dare alcuna precisazione sul fatto che siano veri o siano falsi sarebbe una discreta figata immagino vedere from collaborare con un autore che comunque è estremamente diverso dal loro stile narrativo ma la cosa che accomuna insomma martin e mia zaki è il fatto che fanno morire tutti cioè sempre comunque ma infatti secondo me non è così cioè è vero è diverso è diverso il modo di mettere sul piatto le situazioni però in realtà c'è una visione comune della tristezza dell'essenza del vivere sì esattamente c'è proprio questa visione incredibilmente negativa ai dark di quello che è il fantastico accomuna secondo me molto martin e mia zaki a livello di visione generale però poi a livello narrativo il modo in cui sono narrati i titoli from è completamente diverso da quello in cui normalmente scrive martin e non è esattamente una comunanza cioè facile perché comunque questo è uno che principalmente narra in modo lineare a nonostante per quanto contorti possono essere i suoi personaggi e le vicende che lui racconta laddove invece per quanto riguarda mia zaki è uno che invece inserisce il 90 per cento della storyline della narrativa all'interno del background narrativo all'interno delle descrizioni la nasconde e porta il giocatore a scoprirla le voci dicono che si tratta appunto di un gioco con regni multipli strutturato con tu che puoi scegliere quale regno affrontare all'inizio in qualunque ordine quindi comunque una roba paradossalmente più strutturalmente più vicina a demon souls che non agli altri agli altri titoli non si sa se poi sarà effettivamente un souls like o sarà un titolo che tenta di prendere una strada completamente diversa tipo sekiro però di sicuro se fosse vero sarebbe una cosa sicuramente molto molto interessante da parte mia mi piace il l'idea che stiano sperimentando from software per fare cose nuove però vorrei vederli distaccarsi da questa formula cioè se fosse vero effettivamente il progetto sarebbe alla fine qualcosa di fondamentalmente accumulabile ancora ai souls per certi versi quindi comunque manterrebbe la solita struttura con mappe complesse con cose varie eccetera 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 mi piacerebbe molto vedere invece from fare qualcosa di completamente differente cioè tornare a magari le vecchie glorie del passato un armored core ad oggi fatto da from per la from di oggi con il suo know how tecnico con le sue capacità di design come sarebbe ovviamente non sarebbe un souls like coi robot sarebbe una roba diversa però mi piacerebbe vedere from che si impegna e si mette a fare qualcosa di diverso dal diciamo dal da quello che ormai si sa che sa fare da quello che ormai si sa che fa perfettamente perché anche sekiro alla fine per quanto molto differente dai souls mantiene quella struttura narrativa e di costruzione generale lì e vorrei vederli insomma sfidarsi vorrei vederli sperimentare vorrei vederli provare qualcosa di completamente inaspettato però vediamo vediamo appunto che cosa combineranno con con questo progetto con martin se fosse effettivamente vero perché l'idea mi stuzzica parecchio potrebbe essere un'ambientazione molto diversa da quella a cui ci hanno abituato loro quindi vedremo vedremo ma tu c'è che si possa vedere già qualcosa di nuovo di from alle tre boh immagino di sì se le voci sono vere il progetto è in sviluppo da parecchio e se il progetto è in sviluppo da parecchio la possibilità che loro lo mostrino alle tre è concreta ti ricordo che sekiro l'hanno mostrato alle tre sulla conferenza alla conferenza microsoft sì sì no ma non parte il fatto che comunque è un team piuttosto prolifico ma non sorprenderebbe nemmeno considerato che è in realtà qualcosa già accaduto durante il periodo esattamente che uscì a aprile 2015 e poi a giugno presentarono subito alle tre dark souls 3 con ancora il discorso del dlc di bloodborne che doveva uscire a fine anno quindi non sarebbe nemmeno una grossa novità secondo me la probabilità che possa venire presentato alle tre è più elevata di quanto si possa credere farebbe ridere se ci fosse davvero di mezzo martin perché vorrebbe dire che non c'ha proprio un cazzo di voglia di finire quei libri cioè pur di non finire i libri si mette a fare i videogiochi che cazzo veramente sarebbe incredibile sarebbe incredibile veramente pur di non fare i libri si mette a scrivere i videogiochi vedete voi che razzo di roba comunque boh vedremo vedremo perché alle tre immagino che nonostante l'assenza cioè nel periodo pre poste 3 e durante ovviamente nonostante l'assenza di sony e di altri grossi protagonisti potremmo vedere comunque qualche annuncio veramente grosso perché alle tre comunque qualcosa di grosso arriva sempre no non ve lo dico cos'è il gioco from punish chrome mi dispiace non ve lo dirò mai sono informazioni confidenziali che mi porto nella tomba non è neanche l'unica cosa che so so molte altre cose su molti altri giochi ma da me non avrete veramente mezza voce che sia una mi dispiace sono una tomba su queste cose va bene andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti allora allora ismaele ci chiede buon poveriggio a voi bier store twice siamo diventati tempo fa mi ansel nace no la possibilità di una ora e man dopo i lavori subì anche utenti gol 2 secondo voi ha senso ipotizzare che ubisoft investa risorse in un capitolo 3d free roaming sarebbe un progetto troppo rischioso ma scusami ma legato ad ansel come in che senso legato ad ansel come è partita con ansel la domanda cioè da una formazione di ansel è è cioè sta chiedendo se secondo se ubisoft sta investendo soldi in un prodotto open world free roaming no no in un rayman ah in un rayman ok ok non avevo sentito rayman sì 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 oddio rayman i rayman 2d sono due capolavori totali ma non hanno venduto praticamente un cazzo sono bellissimi secondo me col 3d non si sposano no no sono bellissimi però rayman 2 quando uscì ai tempi era un buon platform 3d se ovviamente contestualizzato il periodo storico non è che rayman secondo me può funzionare anche in 3d se dietro gli metti un designer come dio comanda potrebbe anche fare quel salto non ha certo l'esperienza che ha nintendo con i platform 3d ubisoft ma questo non vuol dire che non potrebbero fare un platform 3d con i cazzi un rayman free roaming lo vedo abbastanza improbabile sull'orma sull'onda di mario odyssey però non è necessariamente impossibile non mi sembra sia il marchio su cui ubisoft probabilmente voglia investire in questo periodo perché rayman è credo il loro marchio commercialmente meno potente al momento perché ripeto dopo i risultati finanziari di rayman legends e origins non è che abbia proprio spaccato il mercato quindi è un gran peccato è un vero peccato certo però io dubito che vogliono portarlo oltre non lo so non lo so sarebbe sicuramente interessante ma la vedo la vedo abbastanza improbabile in tutta sincerta non so se non so te però no no beh la vedo la vedo pure io come una cosa sostanzialmente difficile se non se non impossibile però sopra parte il fatto ragazzi che già il fatto che lui dica dopo beyond good and evil 2 beyond good and evil 2 un titolo che vedremo forse nel prossimo secolo quindi a voglia camminati che poi in realtà sta cioè sta andando avanti sensibilmente a livello di sviluppo perché non so se hai visto le ultime le ultime cose è stato ovviamente c'è calata all'ambizione perché hanno fatto vedere soltanto una città vera e propria la struttura planetaria già si limita un numero fisso di pianeti graficamente molto meno impressionante delle prime demo mostrate eccetera 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 stanno comunque un po calando le arie però se non altro stanno portando avanti il gameplay e sembra essere effettivamente uno di quei giochi free roaming sandbox dove fai un po quel cazzissimo che vuoi quindi comunque molto ambizioso e molto innovativo da tanti punti di vista però si vede lontano un miglio che ancora in uno stadio incredibilmente sperimentale non sembra avere una direzione specifica che possa distinguerlo veramente da tutto il resto se non il vogliamo fare una roba strana che nessun altro ha mai fatto non lo so fino a che punto lo porteranno avanti non lo so fino a che punto potranno svilupparlo è davvero un progetto molto molto ambizioso ma appunto se davvero dice dopo beyond gunenievo raymond tradino lo vedremo mai nell'esistenza sono d'accordo con te vabbè 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 se già è difficile adesso come periodo storico dopo biocundel di goal 2 proprio ciao allora poi cross ci chiede salve redattori vessati dai poteri forti sì 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 verissimo ovvero pierpaolo grego grego e vincenzo lettera vincenzo lettera ho alcune domande per voi numero a ma quest'anno ci sarà una conferenza decente immagino parli delle tre si spera quella di microsoft considerando che sono l'unico big 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 player della cacchia di e3 sarebbe anche ora di fare una conference come dio comanda no potrebbe essere poi lettera 2 a multiplayer lavorate solo voi l apostrofo avorate si avvoriamo solo noi avvoriamo solo noi assolutamente sì e poi domanda x pregianza cerca di venire alla festa di napoli così avrò qualcuno come me con cui parlare male dell'intera umanità tranne di alcuni esemplari ecco un esempio di umano da salvare e sotto c'è una gigantografia di una donzella notevole sufficientemente avvenente molto bene che non ho però la più pallida di chi sia io vorrei veramente venire alla festa di napoli ragazzi ma purtroppo mi hanno come dicevo mi hanno preso un evento quei giorni lì ed è logisticamente molto molto complicato riuscire ad arrivare là quindi è molto probabile che non ci sarò e mi dispiace perché l'ho detto mille volte napoli è una città bellissima l'ho vista davvero pochissime volte sono stato due volte in tutta la mia esistenza e mi piacerebbe effettivamente andare là a fare un giretto a girare in giro mangiare cose soprattutto ma tanto avrai già modo domani e dopodomani di girare bene roma sì sì girare benissimo roma quello che voi non sapete quello che voi non sapete che anche per la festa di roma noi abbiamo avuto il fantastico trattamento lussuria lussuria e lusso pierpaolo greco dove c'è stato preso un hotel per tipo due ore la notte dopo cui veniamo cacciati a calci in culo arriviamo un'ora prima della festa e ripartiamo la mattina a festa finita cioè nel senso non abbiamo neanche il tempo di respirare andare in giro guardare le bellezze di roma berci qualcosa mangiare una cazzo di carbonara no dobbiamo morire perché questo questo è il nostro destino lì in quella fantastica festa di roma quindi va bene così è bello avere pierpaolo greco come capo tenetelo a mente ragazzi per il futuro nel caso voleste lavorare per multiplayer comunque va bene così e vorrei che fosse chiaro ragazzi è comunque il posto migliore dove potete lavorare sì 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 è la verità è la verità ecco quindi immaginatevi gli altri dentro terra terra comunque a roma starò poco sarà breve ma intenso a napoli spero di riuscire ad arrivare con qualche magheggio voli strani robe robe cioè lanciato con un cannone da malpensa non lo so però se ce la faccio veramente molto molto volentieri perché ci voglio veramente venire a napoli nel caso mi dispiace veramente manderò qualcuno con un mio cartonato che comunque a livello di personalità siamo lì lì e dovrebbe essere un sostitutivo gli do dei peli di barba mi taglio la barba e li attacco al cartonato non so che altro fare benissimo comunque vabbè è così speriamo di riuscire ad essere a tutte le feste dai allora allora poi continuando vorrei prendere kingdom mars 3 non avendone mai giocato uno mi è stato detto di guardare un video rassuntivo della quarantina di minuti quindi tipo il prologo sostanzialmente dopo averlo visto consigliate l'acquisto considerate che i capitoli più vecchi che i capitoli più vecchi trovo siano invecchiati un po male no, non lo compra, non lo gioca prendi un gioco bello, c'è Levi May Cry, c'è Sekiro, prendi qualunque altra cosa sono d'accordo con te, non lo compra non per il gioco bello ma perché è impossibile che tu possa riuscire a capire qualcosa di kingdom mars in quei 40 minuti di riassunto che non ho idea di dove tu l'abbia trovato non so nemmeno chi è che ha avuto il coraggio di scrivere ho riassunto kingdom mars in 40 minuti andiamo avanti Zogi, che fine ha fatto Godvain? anche se visto il netto miglioramento di Godeater 3 si è capito benissimo che è successo non ho capito il riferimento a Godeater 3 ma ok oddio, forse lui pensa che le forze allora, gli sviluppatori di Godvain in realtà non sono cioè sono gli ex sviluppatori di Godeater che in realtà lì è un po' un bordello perché alcuni degli ex sviluppatori di Godeater si sono messi a fare Godvain ma è un altro team di sviluppatori ah ok ok c'è un altro team di sviluppo in realtà quello di Godvain quello di Godeater è il vecchio team di sviluppo che ha perso alcuni membri che sono andati a fare Godvain non lo so, cioè non credo che c'entrino i due giochi in tutta sincerità Godvain è stato spostato semplicemente perché a mio parere non rispettava le aspettative di Namco perché non so se avete visto ma era stato lanciato come una sorta di sostitutivo dei Souls dopo che Namco aveva perso il contratto di publishing con From Software e quindi non pubblicava più i Souls che poi bisogna vedere appunto se poi in realtà faranno altri progetti assieme perché comunque i Souls a Namco gli hanno portato il rendito di soldi e quindi ovviamente loro cercavano un sostituto e hanno puntato su Godvain perché alla fine era un Souls-like però io lo chiamavo il Souls-like Animu nel senso che comunque c'era i vampiri, c'era i personaggi molto anime ed era quella roba lì solo che sì, effettivamente tutte le prove avevano dimostrato che il gioco era moscetto con un gameplay un pochettino legnoso con un comparto artistico che era ispirato solo fino a un certo punto perché era la solita cafonata un po' giappo eccessiva che lasciava abbastanza desiderare secondo me l'hanno visto hanno detto ragazzi qua avete bisogno di molto più tempo e quindi secondo me l'hanno semplicemente spostato perché hanno visto che non era quello che volevano e gli hanno voluto dare più tempo, più risorse un po' più di sviluppatori per rimetterlo a posto salvo che non l'abbiano proprio cassato e congelato a tempo indeterminato perché non era abbastanza veramente non si sa più che fine abbia fatto comunque io rispondo alla chat perché se divertono fai divertenti ma sanno benissimo che con me la cosa non attacca abbiamo parlato di Kingdom Hearts in 600 mila occasioni e abbiamo delle opinioni che sono proprio su multiplayer non è stato fatto un riassunto adatto a chi non ha mai giocato Kingdom Hearts perché è impossibile farlo è assolutamente impossibile su multiplayer sono state fatte due cose un fighissimo punto doc il quale tra l'altro Vincenzo ha dovuto spudare sangue per riuscire a ritrovare roba e un racconto che è una cosa praticamente raccontata a stile audiolibro scritto da Giordana che tra l'altro non ha mai giocato Kingdom Hearts e ha passato un mese a guardarsi tutto per riuscire a scrivere quella roba lì esattamente ed è un riassunto adatto a chi Kingdom Hearts già lo conosce voi siete liberi di fare come vi pare e potete anche ascoltarvi quell'ora lì che è sicuramente la migliore che trovate in giro anche perché l'ho corretta anche io quindi è sicuramente la migliore che trovate in giro ma non può bastarvi ma non vi basta ragazzi è un dato di fatto non può veramente bastarvi cioè non basta neanche paradossalmente aver giocato quasi tutti Kingdom Hearts perché ci sono degli elementi nel terzo che prendono dal gioco mobile che io ad esempio mi ero saltato e infatti ero nel vuoto completamente e io li ho giocati tutti io li ho giocati e finiti tutti i cazzo di Kingdom Hearts però se pensate che sia una questione di guerra fredda non c'è nessuna guerra fredda io e Emma viviamo nella totale consapevolezza di avere un'opinione completamente discordante su Kingdom Hearts 3 perché io lo ritengo veramente un gioco pessimo e lui no, è tutto qui non è una cosa che possa venire accomunata o smorzata ma siamo sereni con questa cosa che per me è un disastro sì 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 però lo trovo ancora una cosa molto divertente da giocare ma resta un disastro io invece neanche quello quindi siamo proprio per me è proprio male male Kingdom Hearts per me è proprio una roba che è un fallimento su tutto oddio non su tutta la linea non sulla linea forse del fanservice ma sulle altre per me è proprio devastante devastante per me è stata una delusione non che mi aspettassi cose incredibili ma comunque è peggio di qualunque cosa mi potessi aspettare vabbè andiamo avanti andiamo avanti allora poi vorrei un parere da pregianza che mi ha già dato un'ottima risposta Predator Sagat credo che sia è un utente di multi che commenta molto sotto il picchio duro ok sono molto preoccupato per Mortal Kombat 11 per la politica di Netherrealm che è intrapreso in questo momento si è visto dal trailer da giocare sono tipo 75 l'avevo letta prima fondamentalmente quindi sai sai riassumerla sì di base è preoccupato perché lui vede delle spinte pesanti nel nuovo Mortal Kombat legate ai Social Justice Warrior perché in certi trailer fanno fare fatality soltanto alle donne sugli uomini perché hanno coperto le donzelle che erano sempre state molto molto avvenenti in Mortal Kombat e ritiene che questa sia una cosa estremamente negativa perché i Social Justice Warrior stanno influenzando malamente lo sviluppo della maggior parte dei giochi negli Stati Uniti d'America ora io non credo che il problema sia così tanto legato a Mortal Kombat nel senso che è vero che forse si sono mossi in modo un po' sciocco su certe cose tipo il trailer di Kotal Kahn è stata una discreta stronzata perché loro hanno fatto il trailer di presentazione di Kotal Kahn e nel trailer di presentazione di Kotal Kahn lo fanno ammazzare di botte da Jackie Briggs e la fatality è quella di Jackie Briggs quindi insomma chiamalo trailer di Jackie Briggs e non fare il trailer di Kotal Kahn perché è una puttanata però a mio parere il cambio stilistico dei personaggi femminili di Mortal Kombat è ben accetto nel senso che è vero loro hanno sempre avuto questa questa visione artistica un po' metal del Netherworld dove i personaggi sembravano presi un po' dall'arte di Frank Faradetta cioè quella roba dove le donne sono tutte svestite e gli uomini sono tutti dei barbari super muscolosissimi e incazzati che ci sta perché comunque è quella visione lì però siamo nel 2019 e io trovo anche giusto che l'art direction di un gioco si evolva e non sia necessario che tutti i personaggi femminili siano in bikini e tutti i personaggi maschili siano delle bestie che sembrano disegnate dai fumettisti anni 90 tipo Cable quindi non trovo sbagliato il fatto che ci sia stata una sensibile evoluzione e una volontà di coprire i personaggi femminili in Mortal Kombat anche perché comunque i costumi mostrati fino adesso li trovo tutti molto molto belli e molto molto adatti però in tutta sincerità la cosa è vero che c'è nel senso che comunque l'influenza di Social Justice Warrior negli Stati Uniti è vera è reale sta alle volte influenza anche positivamente certi giochi che sarebbero se no molto molto arretrati da tanti punti di vista alle volte invece è un'influenza eccessiva perché come al solito come dico sempre l'estremismo in ogni sua forma è sbagliato che sia anche con tematiche giuste perché ripeto la parità dei sessi è una tematica sacrosanta anche con tematiche giuste portata all'estremismo può diventare una cosa negativa e figuriamoci appunto quando poi la tematica è quella sbagliata nel caso di Mortal Kombat non sono particolarmente preoccupato perché comunque l'ultraviolenza è sempre stata parte è sempre stata quella il fondamentale del gioco più che le poppe detta terra terra e trovo anche giusto comunque dare una rimaneggiata ai personaggi femminili mi disturberebbe se si vedesse se tipo facessero vedere Milina tutta coperta e tutta elegante lì sarebbe strano ma perché perché andresti a caratterizzare in modo sbagliato il personaggio cioè io posso capire che Jade e Kitana siano coperte abbiano un aspetto più nobiliare perché è più adatto al personaggio ma Milina che fondamentalmente è una mutazione genetica che finge che è anche una sorta di concubina ha senso che sia scoperta e voluttuosa perché è parte proprio del personaggio essere così se improvvisamente appare anche Milina e ha il vestito lungo da signorotta lì c'è un problema perché lì vuol dire proprio che l'hanno modificato per quel motivo lì ma le altre modifiche non mi sembrano sbagliate per quanto riguarda i personaggi non sono particolarmente preoccupato da quello che sta succedendo a Mortal Kombat anzi trovo che appunto le modifiche artesiche siano state positive poi ripeto che i social justice warrior negli Stati Uniti siano spesso e volentieri una piaga mica con me sfondate una porta aperta perché veramente senti di quelle cose provenire dagli USA legate a questo genere di battaglie combattute come sempre a cazzo di cane che a me fanno veramente rabbrividire ma perché loro non hanno le scale di grigio loro hanno il bianco e il nero loro non sono in grado di comprendere la moderazione la tutte le volte che combattono una battaglia di qualche tipo loro non hanno la capacità di discutere moderatamente è una cosa allucinante vanno veramente guardate Resettera Resettera è diventato quello che era quello che era come si chiamava il forum prima dio mio Emma ma dici quello prima di Resettera quello dove c'erano tutti gli sviluppatori rumor Neogaf Neogaf ecco Resettera è diventato lo stesso cesso che era Neogaf perché tutta la gentaglia che faceva queste discussioni lì si è spostata su Resettera infatti è diventata lo stesso identico cesso internetiano da evitare come la peste però ripeto non cioè non pensiate che siano comunque tematiche e battaglie sbagliate solo perché le trattano i coglioni ragazzi cioè tentate sempre di analizzarle con intelligenza perché quella è la cosa che bisogna fare ripeto io i cambi stilistici stilistici di Mortal Kombat 11 li ho apprezzati molto mi piace molto come stanno trattando i personaggi per il momento vediamo se esagereranno oppure se continueranno per questa strada in tutta sincerità va bene argomento del giorno ciccio pappa secondo me argomento del giorno secondo me l'articolo quello su Anthem di Kotaku quanto rischia Bioware? tantissimo ragazzi tutte le cose che ci sono scritte in quell'articolo io le ho dette in live precedenti ma tutte tutte perché guardate che io in un live di un botto di tempo fa ma proprio un botto prima che uscisse Dragon Age Inquisition ragazzi io sono andato all'evento preview di Dragon Age Inquisition a Londra di Electronic Arts e ho parlato col producer di Dragon Age Inquisition che poraccio io me lo ricordo come se fosse ieri perché è una delle robe che mi è rimasta più impressa a un certo punto mi fa per favore andiamo fuori a fumare una sigaretta perché ho bisogno di una sigaretta e tremava cioè tremava dal nervoso dallo stress da quanto da quanto stava male da quanto era stata stancante lo sviluppo del gioco io gli faccio oh ma cioè stai bene tutto a posto che cazzo è successo e lui mi fa guarda eravamo da soli lui aveva una sua sigarettina si faceva un freddo cane però si è un po' aperto e lì lui mi ha iniziato a spiegare un po' di robe ed è venuto fuori che lavorare col Frostbite è una merda è una merda perché il Frostbite non è un motore flessibile il Frostbite non è mai stato un motore flessibile è un motore in house dei dice non è un motore pensato per essere venduto scambiato o per fare ogni tipo di gioco quindi mi diceva lui che tutta la tech di Dragon Age Inquisition che era un GDR open world l'avevano dovuta fare da zero perché non c'era nessuno che potesse spiegargli come cazzo funzionava il motore e che il motivo per cui avevano fatto così tanto fatica avevano dovuto tagliare delle robe eccetera 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 era legato al fatto che loro su quel motore per adattarlo a un GDR ci avevano passato un anno e mezzo che non è una cazzata a livello tecnologico dover combattere col tuo motore per sviluppare un videogame tanto che Inquisition per il tempo che hanno avuto per farlo è stato un miracolo per certi versi perché alla fine come gioco funzionava in un modo o in un altro se io queste cose le ho sentite quello che è uscito fuori ieri se tutto quanto quello che è uscito fuori ieri si rivelasse poi effettivamente vero per quanto mi riguarda è un miracolo o anche quello che è uscito assolutamente sì ma guarda che tutto quello che è uscito ieri è sicuramente vero per la situazione che è stata perché guarda che il Frostbite è stato forzato da Electronic Arts è stato coso l'unquisto come minchia si chiama che prima di fare come sua ultima grande mossa ha deciso che era una grandissima furbata imporre a tutti i team un singolo motore così da avere lo scambio di tech perché pensava di avere in mano la Real Engine non ha capito un cazzo non ha capito che il Frostbite è un motore che hanno fatto gli svedesi pazzi in casa loro e non è una roba che è stata pensata per essere calcolata e essere scambiata dagli altri quindi la roba del Frostbite è una roba che è tutta su Electronic Arts non è una roba che è legata ai singoli team di sviluppo però parliamoci chiaro è vero quello che c'è scritto in quell'articolo ma non è l'unica cosa vera perché da una parte tutto quello che c'è scritto lì è cristallino e sono le tipiche beghe che uno deve vivere quando deve sviluppare un progetto gigantesco e ha delle problematiche legate al management legate ai motori tecnici legate a tutto quante ah Patrick Soderlund grazie Omar grazie che mi hai ricordato il nome del tizio però al contempo questo non vuol dire che le colpe siano solo del management perché? perché comunque questa qua è roba che è legata anche al fatto che comunque ci sono sicuramente dei dipendenti col dente avvelenato che di cazzate ne hanno fatte ma non riescono ad ammettere di averle fatte che internamente agli studi e queste non sono cose che ci sono scritte nell'articolo ma sono cose che sono lì per certo perché io ho fonti interne a Bioware all'interno degli studi ci sono dei conflitti abbastanza pesanti perché ci sono delle vere e proprie squadriglie legate a come devi fare certe cose come altre perché ci sono alcuni che pensano che devi fare in un certo modo il gioco altri che pensano che lo devi fare in un altro modo altri che cercano di portarlo verso la loro politica l'agenda cazzo lavorare in team di sviluppo dove si sono formati dei gruppetti guidati da gente comunque che ha una certa età che credevi sapere tutto lei quando poi in più a livello di managing hai dei problemi quindi lì la situazione è drammatica di suo e il fatto già che il gioco sia uscito è mezzo miracolo però ragazzi io non sono stupito del fatto che sia uscito così perché purtroppo loro sono attualmente in una situazione davvero drammatica perché a livello di managing non hanno più nessuno che riesca a guidarli come dio comanda sono scappati dozzine di sviluppatori da bioware per via di questa situazione e di sicuro dai piani alti non hanno qualcuno che sappia dargli una regolata e dirgli ragazzi c'è un problema voi qua vi dovete riorganizzare completamente è veramente una situazione sistemica cioè è proprio una cosa lì proprio a livello sistemico stanno cadendo a pezzi stanno completamente cadendo a pezzi e non è purtroppo una cosa che sia di facile gestione è veramente un mezzo di salve tra l'altro il pezzo di ieri è probabilmente forse il più lungo pezzo della storia del giornalismo videoludico perché è una roba di una lunghezza è molto è molto dettagliato ma d'altronde Shrey sono circa 11.000 parole ma ragazzi d'altronde Shrey ha delle fonti abbastanza importanti all'interno dei team di sviluppo che poi parlano con lui perché sa che è un newsbreaker notevole molto molto conosciuto come diretta conseguenza lui ha veramente tantissimi sviluppatori che quando se ne vanno dai team gli danno tutte le informazioni interne come detto vanno sempre comunque prese con un pugno di sale perché sono tanti gli sviluppatori che se ne vanno col dente avvelenato e magari esagerano la situazione però le cose che sono scritte in quell'articolo sono per lo più vere e ve le posso confermare anche io che non ho i contatti di Shrey su quello ve lo posso dire assolutamente basterà far saltare qualche testa nel management chiede Zed assolutamente no Zed lì la problematica è molto è molto molto più profonda ed è alla radice io credo che Bioware per come adesso difficilmente potrà ha bisogno di delle figure forti che riprendano in mano la situazione che mettano a tacere a tacere la gente sotto che fa più bordello di base però è un processo lento è un processo che richiede di riacquistare la fiducia degli sviluppatori perché al momento la situazione non mi sembra neanche bellissima a livello di morale e che potrebbe richiedere anni io in tutta sincerità in tutta sincerità boh ho molta paura per come sta messa Bioware adesso io non credo che si riprenderà mai più io la vedo veramente veramente difficile boh spero in tutta sincerità che che respawn col successo che ha avuto con Apex Legends adesso abbia la libertà di fare quel cazzo che vuole e non gli impongano il frostbite anche a loro perché lì lì veramente ho veramente molta paura speriamo che continuino ad usare il source e vaffanculo la grafica guarda veramente non lo so non lo so vedremo io riguardo al pezzo non lo so ragazzi sono combattuto nel senso che la situazione è evidente là dentro che ci siano dei problemi lo sappiamo da una decina d'anni cioè post Dragon Age post Dragon Age Origins Mass Effect 2 diciamo che lì sostanzialmente è andato tutto un po' in vacca attorno a Mass Effect 3 quando si è iniziato a notare che stavano andando le cose tra quello e Dragon Age Journal si è capito che sia Dragon Age 2 si era capito che lì il problema stava diventando parecchio grosso però ripeto sono combattuto nel senso che allo stesso tempo la battaglia degli sviluppatori quelli che vengono sottomessi pieni di ansia tutti quanti sempre stressati il crunch time questa roba qui comunque di questo periodo fa notizia si esatto ormai è un po' di tempo che fa notizia questa roba quindi secondo me bisogna cercare di mediare tra le due cose cioè tra la consapevolezza che in EA e soprattutto in BioWare da quando BioWare è stata acquistata da EA c'è un problema certo assolutamente c'è un problema che probabilmente non si risolverà finché non si ripensa dalle fondamenta la struttura aziendale di BioWare eh sì dall'altra parte bisogna cercare di leggere con il giusto distacco le parti nelle quali si racconta di questi sviluppatori che si chiudono dentro le stanze a piangere e che prendono tre mesi di ferie per stress cioè quella è molto scenica esatto lasciamo perdere insomma quella lascia il tempo che trova va bene nel pezzo è un pezzo lunghissimo quindi è un pezzo che si può permettere di inserire anche quello tra l'altro secondo me ha un'apertura straordinaria perché la prima frase proprio il primo periodo è il gioco non doveva chiamarsi Anthem sì 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 la roba lì è incredibile già quello spiega tutto quanto quello che verrà dopo il pezzo è molto bello leggetevelo se masticate un minimo di inglese è scritto tra l'altro ma è molto molto semplice quindi non mi serve sì Shirey era un ottimo Shirey era veramente un ottimo scrittore ma d'altronde anche Blood, Sweat & Pixel è un ottimo libro io lo consiglio veramente a tutti per capire un attimino le difficoltà dello sviluppo Blood, Sweat & Pixels è una di quelle robe che è una lettura abbastanza seminale all'interno dell'ambiente poi ripeto Shirey ha delle idee alle volte un pochettino eccessive su certe cose però come in alcune situazioni è molto è molto categorico esatto troppo categorico però va detto che comunque come giornalista è veramente c'è un motivo se è quello più forse riconoscibile al mondo da questo punto di vista qua ma lui infatti va benissimo nel momento in cui si tratta di fare roba di inchiesta perché a livello di inchiesta videoludica nel mondo non trovate nessuno come lui ma anche perché non c'è nessuno nel mondo che ha i suoi contatti esattamente poi lui li ha sviluppati veramente in una dozzina di anni di lavoro sul campo perché comunque come ti dicevo li abbiamo sviluppati noi che siamo italiani non ci caga nessuno e lavoriamo in questo ambiente da 10-12 anni figurati lui che lo fa da 20 e sta negli Stati Uniti a stretto contatto con tutti gli sviluppatori dalla mattina e dalla sera cioè che cosa può avere comunque insomma non credo che onestamente non credo che sia una cosa dalla quale si uscirà presto BioWare ha ripeto ha un problema strutturale all'interno dell'azienda che non è risolvibile con prendiamo e cambiamo un tizio che è tra l'altro una cosa che hanno provato a fare in più di un'occasione perché Anthem ha cambiato tre director per poi tornare a quello originale perché esatto se nessuno alla fine è riuscito a capire definitivamente in quale strada prendere un problema c'è anzi torno a ripetere che è quello che dicevo prima quando d'ho interrotto subito considerato il gioco che è uscito un mese fa ragazzi se veramente fosse vero al 100% dichiarato che hanno cominciato davvero a lavorare su Anthem a luglio agosto del 2017 sono stati nemmeno 18 mesi di sviluppo intenso e tre anni di virtualizzazione quello che avete visto un mese fa è un miracolo è un miracolo è un miracolo che peraltro infatti non riescono a sistemare perché non hanno avuto il tempo materiale di fare le cose come dio comanda e ragazzi la situazione è brutta la situazione è brutta non c'è niente da dire vabbè passiamo ad altro a nuova tematica che altro c'è di interessante andiamo oltre andiamo oltre ma con tanta chiedere ragazzi complimenti per la competenza quale tra Death Stranding The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima ritenete più probabile possa uscire nel 2019 io Ghost of Tsushima questa probabilmente è la la domanda del 2019 comunque io dico Ghost of Tsushima come probabilità per 2019 io pure sai perfettamente che ti ho sempre detto che era quello che vedevo più plausibile anche se ci sono sempre queste voci molto molto insistenti sul fatto che invece sembrerebbe che che Naughty Dog è più avanti del previsto sì della Stovas è plausibile e potrebbe uscirsene nel 2019 mentre al contrario Ghost of Tsushima forse ancora non è pronto sarebbe un colpo incredibile 2019 della Stovas 2 è successo qualcosa di strano è morto sì ti è morto Discord per un momento è proprio ha corollato completamente Discord per un attimo sì 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 vabbè cosa stavi dicendo ripeti no dice non so fino a dove sono arrivato ma dicevo comunque sicuramente eliminate Death Stranding dalle equazioni sì quello no nel 2019 quello non esce ma è già stato letteralmente detto da Kojima siamo un po' indietro con i lavori che è quella roba del dire no guardate ragazzi che nel 2019 questa cosa qua non esce quindi tenete a mente questa piccola perla e tenetela per voi perché va bene così che altro di che altro parlare c'è qualche altra domanda interessante in chat o nel allora c'è PCista97 che ci chiede perché esistiamo qual è il nostro scopo ma soprattutto perché dopo tutti questi anni i multiplayer non hanno mai sistemato la ricerca interna del sito bella domanda bella domanda dovresti chiedere ai nostri gloriosi sistemisti in tutta sincerità noi non lo possiamo sapere ci sono tanti tanti quesiti che non hanno risposta a multiplayer ma va bene così va molto bene così allora Arme chiede cosa se ne pensa del tracking dei nemici in Sekiro se fosse stato un po' meno marcato non penso che avrebbe rovinato il gioco ma lo avrebbe reso un po' più onesto visto anche che i nemici hanno delle mosse che a prescindere da quanta postura tu abbia ti sbilanciano ci sarebbe da ridire anche sull'input lag che in alcuni scontri è palese che sia un problema allora l'input lag più che input lag è derivante dal frame pacing ragazzi non lo vedo l'input lag è per me un problema che non esiste no infatti non è una questione di input lag è il frame pacing di Sekiro che è problematico il frame pacing è un po' problematico in tutti i giochi from lo era anche in Bloodborne lo era anche in Dark Souls 3 è proprio una questione di come vengono ordinati i frame non so bene come spiegartelo che ti dà una minor precisione rispetto a quella che hai su PC a 60 fps tutta perfetta con tutto che va alla perfetta io l'ho giocato su PC e su PC è perfetto su PC è perfetto su PlayStation 4 Pro funziona bene ma comunque non è altrettanto perfetto su PS4 base è perfetto sto cazzo perché comunque c'è qualche scatterello quella roba lì è discretamente problematica ma Sekiro in realtà il tracking non è un problema il tracking è voluto ragazzi perché in Sekiro il fondamento del combat system è farti sentire all'interno di una battaglia all'arma bianca senza esclusione di colpi se il tracking non fosse così marcato verresti troppo spinto a utilizzare la schivata come fai negli altri giochi from perché la schivata sarebbe molto più efficace e quindi potresti fare la maggior parte delle battaglie schivando come un dannato laddove invece con un tracking estremamente marcato devi utilizzare perfettamente la finestra di invulnerabilità della schivata e sei costretto a schivare solo all'ultimo momento se vuoi utilizzare la schivata questo è voluto perché loro vogliono che tu utilizzi la parata come principale manovra difensiva e la schivata solo con certe manovre specifiche che magari tracciano di meno e ti permettono comunque di contrattaccare l'avversario è tutto perfettamente calcolato per dare importanza ai pattern offensivi del nemico e dare importanza alla tua capacità di calcolare i pattern difensivi il fatto che alcune mosse sbilanciano e tolgono tantissimo postura in realtà si sposa perfettamente anche a questo sistema per il semplice fatto che se fai la perfect parry indipendentemente da chi hai davanti i nemici non ti sbilanciano cioè la perfect parry può comunque farti dei danni posturali ma sono sempre limitate indipendentemente dalla forza dell'avversario anche di quella dei boss più terrificanti a livello di colpi quindi il gioco vuole che tu la usi vuole che tu utilizzi la parry perfetta contro questi avversari o che tu utilizzi la schivata solo all'ultimo momento vuole metterti in tensione la difficoltà di Sekiro deriva da quello deriva proprio dal timing delle mosse se i colpi nemici non tracciassero allo stesso modo non avresti la stessa tensione nei combattimenti non sarebbe altrettanto difficile e non funzionerebbe altrettanto bene io trovo che sia un'ottima scelta di design poi posso capire perfettamente che molti vogliano utilizzare la schivata di più perché siano più abituati a quel genere di stile di combattimento ma il modo per superare Sekiro e la sua difficoltà è rendersi conto che non lo devi giocare come un Souls e non lo devi neanche giocare come un action classico è proprio una roba che funziona attorno ad altri equilibri ed è proprio il tracciamento dei colpi nemici che ti permette di giocarlo in quel modo il gioco cerca ancora una volta di riprogrammare le tue sinapsi per essere giocato in un certo modo esattamente come faceva anche Dark Souls e Demon's Souls all'inizio fanno esattamente la stessa cosa ma a un livello completamente diverso basato solo esclusivamente sul combattimento infatti io trovo che sia geniale da questo punto di vista poi ripeto il resto è questione di preferenze personali io sono d'accordo a metà nel senso che il tracking nel combat system di Sekiro per me è vicino alla perfezione e una delle cose che lo rende molto vicino alla perfezione è proprio il fatto che va contro tutti quelli che dicono che è semplicemente parata e contraattacco perché non è così in base alla tipologia di nemico che hai di fronte devi o parare oppure rispondere all'affondo o rispondere a o schivare o saltare la spazzata sempre per quello è con un tecnicismo esagerato questo comporta sì la necessità in alcune situazioni di scogere una percentuale che è quello che in realtà rovinava completamente Dark Souls 2 ma perché in Dark Souls 2 non doveva minimamente esserci era sbagliato il concetto il tracking nel 2 non doveva esserci l'avevano esserito qui va bene che ci sia un po' allo stesso tempo in alcune situazioni secondo me è esagerato e rovina l'esperienza tipo boss finale quando fa l'attacco quello con la lama particolare diciamo perché non voglio dire troppo a chi non l'ha giocato e parlo proprio e per capirlo parlo proprio di attacchi all'inizio della boss fight che li fa per forza ma guarda che quello non il primo quanto il secondo il secondo attacco è sbagliato nel tracking è proprio sbagliato ragazzi perché lui in un frame in un frame riesce a fare quasi 180 gradi sì però è pensato anche quello per farti schivare sì sì è certo che è evidente che sia pensato è pensato sbagliato no no per carità però ripeto non lo so io lo vedo abbastanza giusto in tutte le boss fight perché ti mira proprio a farti fare certe cose però capisco e quello tra l'altro è uno dei motivi per cui io dico che il boss segreto del gioco che tra l'altro ti porta a giocare Sekiro come se non fosse Sekiro è un boss vicino alla perfezione e quella è la dichiarazione dei Miyazaki per dire abbiamo completamente sbagliato uno dei boss segreti di Bloodborne quindi ve lo rimettiamo qui fatto bene mentre il boss finale del gioco è una mezza chiavica in alcune situazioni ma a me invece piace molto in tutta sincerità il boss finale è bello scenicamente ma è artificiosamente difficile oltre ad essere è così perché ti costringe a utilizzare tutto quello che hai imparato fino a quel momento poi tra l'altro secondo me il design di un titolo è sbagliato che tu la prova di forza più alta di tutte la metti sul finale perché io quando sono al finale tu mi fai ti sto scusami stai avendo dei problemi stai avendo dei problemi di audio in questo preciso istante ma è Discord che ogni tanto abbassa il bitrate a cannone stai dando delle problematiche abbastanza sensibili non capisco che cacchio succeda però vabbè vabbè comunque vabbè abbiamo ancora dieci minutini di live facciamo qualche altra domanda ma vediamo che cosa a cosa possiamo rispondere che altro c'è vabbè le domande della news le abbiamo finite io credo a sto giro detto ciò non so se adesso mi senti bene detto ciò Sekiro per me è il titolo più maturo che From abbia mai fatto a me è piaciuto moltissimo ma non lo pongo lo pongo comunque sotto a Dark Souls e a Bloodborne al primo Dark Souls perché il primo Dark Souls secondo me è una roba assolutamente seminale dietro a Bloodborne perché Bloodborne lo trovo nel complesso una delle cose che gli si è riuscita meglio in assoluto per sperimentazioni background narrativo atmosfera e quant'altro quindi però Sekiro mi è piaciuto comunque abbastanza da stare subito sotto a quello che hai detto cazzi insomma Sekiro è veramente un gran gioco su quello non ci piove assolutamente ok ultimissima domanda VCloud chiede rivedremo mai un Soul Reaver anche questa domanda che ogni tanto si ripresenta tanti lo vogliono tanti ci sperano la marchio c'è la Square Enix ragazzi ma vai a capire cioè non non è scontato rivedere Soul Reaver non è un marchio che abbia commercialmente il peso che aveva in passato dovresti comunque tra l'altro spenderci tanti soldi perché si parlerebbe di un reboot completo e quindi di un titolo letteralmente AAA rifatto da zero con una storyline incredibilmente complessa delle strutture che comunque dovresti rifare da cavo perché non puoi riportare Paro Paro Soul Reaver come era nella sua forma originaria oggi quindi costerebbe tantissimo e sarebbe un titolo di nicchia quindi io non credo che Square sia interessata effettivamente a una sua rinascita il che è un peccato perché ad oggi ritengo che sia una delle serie narrativamente più riuscite in assoluto e più ispirate in assoluto con un background un narrativo straordinario è molto molto difficile pensare pensare a cosa possano fare con un nuovo Soul Reaver vedremo vedremo non lo so io ci spero sempre ma la vedo veramente improbabile se facessero un trattamento la Resident Evil 2 remake a Soul Reaver sarebbe un miracolo divino in tutta sincerità cioè salterei veramente per strada nudo per strada se succedesse una roba del genere però la vedo considerando la Square odierna la vedo veramente improbabile ti dico la verità sono preoccupato per Final Fantasy 7 remake figuriamoci per Soul Reaver remake se posso se non posso avere delle preoccupazioni vabbè vabbè allora cogliendo qualche domanda che ho visto tra quelle più fatte nella chat oggi c'era qualcuno che chiedeva se quanto tanto quando arriverà l'update di Borderlands che deve uscire oggi ragazzi arriva se non sbaglio tra 12 minuti dovrebbe andare in pre-download perché si sbloccherà alle 19 se non sbaglio c'erano 3 ore di pre-down no forse no forse su Steam non c'era neanche mi ricordo in cosa consiste questo fantastico si sblocca alle 19 la remastered la enhanced edition addirittura e non è solo un miglioramento in termini grafici ma cambiano una serie di cose anche abbastanza importanti aggiungono la minimappa come quella del 2 cambiano aggiungono le gas con i codici shift in termini di bilanciamento e di drop e cambiano è cambiato completamente il boss finale l'hanno rifatto da zero capito in termini di design vabbè vabbè e ma io direi di chiudere il live più che altro perché vabbè Discord sta veramente sbarellando non capisco che cazzo sta succedendo e per il resto vabbè comunque la nostra oretta 50 minuti l'abbiamo fatta quindi direi che le domande che dobbiamo rispondere le abbiamo risposte quindi niente io e te ci vediamo non so perché muore non so cioè Discord sta avendo delle problematiche serie boh perché io a livello di connessione vado bene non ho perso fotogrammi quindi non sono me comunque comunque vabbè noi e te ci vediamo domani Little White Rabbit per questa festa del multiplayer festa del multiplayer di Lega Nerd ragazzi che comunque dovrebbe esserci un po' di gente perché a quanto pare è sold out ci vediamo la Roma se passate da quelle parti a salutare verso le 8 credo inizi se non ho capito bene da quello che ho capito e quindi niente noi ci vediamo la domani a Roma e invece oggi vi ringraziamo come sempre per essere stati con noi così numerosi che siete 1300 siete un botto come sempre vi si vuole un sacco bene grazie per i follow grazie per le iscrizioni eccetera 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 vi si vuole un sacco bene ragazzi ci vediamo al prossimo multiplayer risponde o al prossimo live di multiplayer ciao a tutti ciao 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 ciao